è terra nostra, il posto più vicino al paradiso. Certamente nessuno di noi ama il dolore, ma viviamo in una società che, come dice il proverbio, spesso rischia di buttare il bambino con l'acqua sporca. Noi non solo respingiamo il dolore, ma allontaniamo le persone che si rendono improduttive perché abitate da un dolore fisico o morale. Il servizio si aprirà con un breve brano del poeta Rilke e a seguire una sinossi del libro Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite. Lo stesso concetto lo ha descritto molto bene il poeta Rilke nel libro Lettere ad un giovane poeta quando dice «Pericolose e maligne sono quelle tristezze che diventano rumore tra la gente, come malattie che vengono trattate superficialmente in modo sconsiderato, fanno prima un passo indietro e poi errompono paurosamente e sono vita non vissuta, avvilita, perduta, di cui si può morire. Dovremmo sopportare le tristezze con più fiducia che le nostre gioie perché esse sono momenti in cui qualcosa di nuovo è entrato in noi, qualcosa di sconosciuto perché siamo soli con la cosa straniera che è entrata in noi. Quanto ci era abituale è stato tolto perché siamo in una trasformazione, in un cambiamento dove non possiamo fermarci». L'evento traumatico del virus Covid-19 ha profondamente scosso le nostre sicurezze, rendendoci dolorosamente consapevoli della nostra insicurezza e della nostra fragilità. Il mondo conosciuto, confortevole e amico è diventato improvvisamente estraneo e un nemico. Il prossimo, cioè le persone che ci sono vicine, sono diventate un potenziale pericolo perché portano con sé una minaccia invisibile. L'ideale di potenza e di invulnerabilità che ci accompagna nella società della prestazione e la conseguente esagerata fiducia nel pensiero positivo che riesce a risolvere in ogni modo le difficoltà è stata messa in discussione. Questa filosofia del successo ad ogni costo e la spinta ad evitare il dolore che accompagna la vita moderna sono stati messi in crisi. Fuggire il dolore, il negativo, che è nel mondo, significa allontanarsi dalla vita. Io aggiungerei anche dalla nostra verità, cioè quella verità personale che appartiene solo a noi. Sacrifichiamo la libertà per la sicurezza, la vitalità per avere certezze, ma le certezze e le sicurezze che riceviamo sono illusorie. La stessa cosa, dice l'autore del libro Una società senza dolore, ci ricorda di non aver paura del dolore e di non vedere il dolore come segno di debolezza e di fragilità. Lui sottolinea che la felicità è necessariamente intrecciata e accompagnata dal dolore. Se evitiamo il dolore diventiamo anche insensibili alla felicità. Tutte le intensità delle emozioni e delle passioni in sé sono dolorose perché propongono un cambiamento e insidiano i nostri equilibri e la nostra pace. Se cerchiamo di attenuarle indeboliamo allo stesso tempo la nostra possibilità di essere felici.